Questo volevo evidenziare che è un lavoro che è partito da più di un anno fa e che ci ha visto collaborare con l'amministrazione precedente municipale. Ben venga che ci sia continuità di intenti, perché io credo che c'è stata volontà della Commissione di condividere questo atto trasversalmente con le forze politiche. Ben venga che ci sia una volontà unisona a valorizzare queste aree, che sono una ricchezza per tutti quanti. Quello che voglio evidenziare è che ovviamente non è fattibile in questa variazione di bilancio, anche perché a livello concreto sarà necessario quantificare la progettazione, fare un sopralluogo. Per cui anche emozioni che sono state presentate dalla Commissione precedentemente non hanno i tempi tecnici per rientrare in questo bilancio. Però è un indirizzo che diamo da qui al futuro, insomma, fino al 2021 per le prossime variazioni, perché c'è comunque volontà da parte della Commissione di andare a valorizzare questi come altri siti che sono diffusi in tutti i municipi di Roma Capitale. Grazie.